Un buon antiparassitario innanzitutto non deve essere tossico per l'animale, deve essere usato nei tempi giusti, con la giusta frequenza e stando attenti moltissimo alle stagioni. Cioè, nell'inizio primavera dobbiamo stare attenti soprattutto alle zecche e quando il clima sarà più caldo, più secco, aumenta la percentuale di pulici e nello stesso tempo sopravviene anche la necessità di proteggersi dai clebotomi e evitare i disti di lesmanimosi. In alcune regioni è presente moltissimo anche la filaria e anche quello necessita di una prevenzione apposita. Ogni quanto va utilizzato l'antiparassitario? Allora, ci sono prodotti sia in spot on, quindi con applicazione esterna, in genere con applicazione mensile, ci sono prodotti adesso anche per via orale, molto semplici da usare, che addirittura si possono usare anche ogni tre mesi. Il tutto deve essere equilibrato e scelto in base anche alla razza del cane o a precedenti esperienze che ha avuto a contatto con certi tipi di molecole.